Ben trovati, ben trovati a tutti con Metropolis Calcio, con Paolo Pirovano, buongiorno. Buon pomeriggio, ciao Stefania, come va? Bene, ormai effettivamente è arrivato il pomeriggio e io ricordo ai nostri telespettatori che possono telefonarci, anzi devono telefonarci se vogliono allo 0243 43 34 34 per parlare di Inter insieme a Paolo Pirovano. Mi fai ricordare due colleghi che sicuramente conoscete e vi ricordate di loro, Beppe Maseri del giorno che purtroppo è scomparso nella giornata di oggi, Beppe è grande inviato, grande cantore delle gesta calcistiche e Franco Zuccalà, 83 anni, collega della Rai, voce e volto di novantesimo minuto e poi era un collega che confezionava sempre dei servizi gradevoli perché era molto ironico, era molto particolare in questo senso per la Domenica Sportiva e ovviamente le condoglianze da parte nostra ai familiari e a chi ha voluto il loro bene, agli amici. Grazie come sempre per le tue parole che sono sempre molto toccanti. Grazie. Grazie Paolo. Io partirei subito con la prima telefonata di questa puntata. Stefania, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Carlo e siamo addolorati per queste due perdite veramente importanti. Volevo chiedere, ma secondo lei da interista questa Inter veramente sconvolgente, ma dove può arrivare un Inter che prima sembra completamente morta e poi risorge completamente? Cosa può fare una squadra così? Grazie. Grazie. Si ricorda quando si diceva pazza Inter ammala? Ecco, ieri sera è stato proprio lo slogan fatta squadra di quella canzone lì. Dove può arrivare non lo so, che sia imbattibile lo è stata ieri sera perché non sono riusciti a battere neanche il Benfica in formazione titolare, perché ieri sera per una squadra la partita aveva un valore, un valore molto pesante perché doveva vincerla. Per l'Inter aveva un valore, diciamo come abbiamo detto ieri sera, d'immagine, nel senso che se sei l'Inter, io non sono d'accordo, però in parte posso anche tollerare questa affermazione, se sei l'Inter non puoi andare a fare figuracce del genere. Ecco, questo posso sottoscriverlo. Dopodiché ieri non era l'Inter, ieri erano 9-11, 8-11, dite quello che volete, di una squadra che ha mandato in campo per 8-11 appunto delle seconde linee, delle alternative, dei giocatori che a volte alcuni non hanno mai visto la Champions, altri non hanno mai giocato insieme. Quindi un conto è inserire Aslani, pure Bissek, pure Klassen, in uno scheletro, in una struttura che funziona perché hai Mkhitaryan, perché hai Lundfries, perché hai Di Marco. Un altro conto è mandarlo in campo e dirgli gioca. Il primo tempo l'hanno pagato dal punto di vista mentale, secondo me, perché poi se fisicamente sei giù non puoi andare nel secondo tempo e fare quello che hai fatto. Eh sì, perché poi si è svegliata proprio improvvisamente. Sentiamo i telespettatori, pronto? Pronto? Ciao, chi parla? Buon pocino, sì, sono Bambino, buongiorno. Buongiorno. No, vorrei solo dire una cosa sull'Inter di sera, ma secondo me Simone Inzaghi ieri sera ha sbagliato a fare tutto quel turnover. Io, se fossi stato in lui, avrei cercato di far giocare la formazione più titolare possibile. Io la vedo così. Ma perché? Se vorrei sapere cosa ne pensi. No, volevo sapere il botto. Prima di risponderti, Paolo, ti chiede perché se tu avresti fatto giocare una formazione più titolare, sarebbe stata più efficace, secondo te? Eh, secondo me sì, perché così almeno ero già posto con le qualificazioni. No, perché poi comunque bisogna andare... Grazie. Grazie, comunque bisognava... te la giocavi comunque con la Real Sociedad. Allora, io vi chiedo... Sì. Avete visto che intervento hanno fatto su Barella, che poi il giocatore del Benfica è stato espulso? Benissimo. Se tu mandi in campo 11 titolari, no? In una partita che vale come immagine, vale come incasso, come premio UEFA, perché l'UEFA se vinci ti dà più milioni, ovviamente, se perdi... Eh, infatti. Se pareggi ti dà a metà strada, ok. Ma metti che Barella, metti che Lautaro, metti che quello che volete voi. Si fosse infortunato ieri e non poteva giocare contro il Napoli, secondo me sarebbe stato peggio, ma è una mia opinione. Ieri comunque è andata bene, alla fine è 3-3, va bene così, e Simoninzaghi, oltretutto, secondo me, ha potuto anche valutare punto per punto quali sono le possibilità, qual è la consistenza, qual è la valenza di ogni singolo giocatore. Ovviamente ha avuto risposte contrastanti, perché per esempio ieri abbiamo visto che, secondo me, Klassen, che può essere un ottimo giocatore, un ottimo prospetto, diventerà sicuramente un giocatore importante, ieri ha dimostrato di non poter giocare da titolo, cioè di non poter prendere il posto di qualcuno dal primo minuto. Sarà stato mentalmente non adeguato, non lo so. Bissec, che ho letto dei commenti negativi e dei giudizi negativi, secondo me, invece, ma questo è il mio parere, quindi prendetelo come mio parere, mica è il Vangelo, secondo me Bissec si è comportato bene, a un certo punto mi è piaciuto. Ovvio, nel primo tempo io non ho dato una sufficienza. Ecco, dopo arriviamo magari anche alle tue pagelle. Pronto? Pronto? Buongiorno, buon pomeriggio, chi parla? Buon pomeriggio, Stefania. Rosario Interista. Ben trovato. No, lo scandalo vero è stata la partita di domenica dell'Inter. Cioè l'Inter non può passare 90 minuti a passare la palla dietro al portiere. Poteva vincere la benissima perché era altamente superiore alla Juve di adesso, anche se gli andava male, andava sotto di un punto, ma quello non cambiava la sorte. Il problema è che una squadra come l'Inter passare per 90 minuti la palla al portiere, stare in difesa e tenere solo il pallone, perché poi ha tenuto il pallone per 60-70 minuti. Ma a che serve quel tipo di gioco? Chiarissimo. Scandaloso. Mi vergogno da Interista a un gioco del genere. Ciao Rosario, grazie. Buon pomeriggio. Grazie. Io mi vergogno a rubare, mentre invece io domenica, allora sono d'accordo col telespettatore. È incostante, pazza. La partita di domenica è veramente da dimenticare e su cui siamo tutti d'accordo, non mi è piaciuta. Cioè non è piaciuta neanche a me. Dopodiché però io ragiono e dico, l'anno scorso contro la Juve abbiamo fatto una partita incredibile. Abbiamo forse giocato il miglior primo tempo della stagione, non ho molta memoria storica, però mi sembra di ricordare questo. Dopodiché, come è finita? Me lo dite come è finita? Le abbiamo beccate. Quindi, se tu giochi come vorresti giocare contro la Juve, la Juve ti punisce. La Juve aspettava soltanto che noi andassimo a sprombattuto con la cavalleria, l'artiglieria pesante, la contraerea in area di rigore, per poi punzecchiarti in contropiede. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Dopodiché io mi auspico che quella di domenica sia la prima e l'ultima partita che l'Inter gioca in questo modo, perché io non mi sono divertito. Perché nel secondo tempo è stato veramente inguardabile. Abbiamo preso un punto, siamo ancora primi, alla fine non so se le due squadre avevano paura di vincere, che poi voleva dire aver paura di perdere, oppure a tutte e due a un certo punto stava bene il pareggio. Questo non significa che sono messi d'accordo. Però a un certo punto giochi la palla e non fai del male all'avversario e l'avversario non ti fa male. Ma tu dici la mancanza di coraggio, doveva avere forse più coraggio la Juve a provare una volta ad attaccare piuttosto che aspettarsi al barco. Chi era primo in classifica? L'Inter. Chi voleva superare l'Inter? La Juventus. Perché la Juventus non ha fatto la partita? Che avrebbe dovuto fare una squadra che voleva conquistare il primo posto? Non lo so. L'Inter poi, certo, se fosse andata avanti, avesse segnato, sarebbe andata a più 5. Sì, più 5 in classifica. Allora, i ricordi, la matematica e l'aritmetica io sono negato, però questo era a più 5. Vado al telespettatore e pronto? Sì, buongiorno signora, sono Mario da Milano. Buongiorno. Saluto lei, Pirovano. Buongiorno. Non ci dobbiamo lamentare, al di là che sia l'Inter, la Juve o Milano, ma il calcio è diventato un business. Se fai cassa, se fai percorso Champions. Al di là della brutta partita che ha fatto ieri l'Inter, bravi a rimontare. Purtroppo, questo Juventus-Inter-Inter-U è quello che è. Ad Allegri andava sicuramente bene, visto il deficit che aveva nella rosa. L'Inter non vorrei che poi, alla fine del campionato, questi due punti in più che poteva, portare a provarsi a casa, visto la superiorità, che poi non paghi impegno, anche se siamo solo a novembre. Lei comunque, se la mente dell'Inter, io se guardo il mio Milan, ha vinto uno Scudetti, adesso forse hanno capito che era già all'epoca che Pioli andava mandato via. Questo è il risultato. Comunque troppi soldi. La gente va in campo, fanno già i conti della partita che giocheranno dopo, mi dispiace, perché questo non è più calcio. Io ho 59 anni. Grazie, Piro. Grazie, buongiorno. Grazie, Mauro. Allora, diciamo che di ieri, a differenza della partita con la Juve, si può vedere una partita che comunque ha tenuto le persone attaccate, che ha fatto venire un po' la partita. No, secondo me nel primo tempo hanno buttato il telecomando. Sì, dal secondo però diciamo che ha avuto un po' la partita. Era da fare, avevo il primo tempo e c'era 3 a 0. Ecco, ieri io, piuttosto, ieri era in preventiva la sconfitta, perché, però sapevo io che avremmo perso, ma io l'avevo già messa in cantiere la sconfitta, non ero assolutamente preoccupato. L'unica cosa che non mi sarebbe piaciuta sarebbe stata quella dell'imbarcata. Ecco, andare a, sia ben figa, andare a Lisbona e prenderne 4, 5 e non segnare neanche uno, non mi sarebbe piaciuto. Meno male che hanno poi fatto quel secondo tempo. Io non so che cosa, che shampoo, che pettinata e che permanente ha fatto Inzaghi e i giocatori nello spogliatoio durante l'intervallo, perché ci avrà toccato anche le corde giuste, probabilmente. Infatti, cioè comunque lo rende un buon allenatore, se riesce a rimaltare così anche il muore del club. Cioè, lui ha mandato in campo quella formazione, secondo me, mica perché dice, tanto anche se perdo qual è il problema. Secondo me, lui ha mandato in campo quella formazione perché comunque sapeva che avrebbe potuto in qualche modo competere con il Benfica. Poi te la perdi, la perdi bene e ti porti a casa zero punti. Però nel primo tempo non si aspettava questa squadra. Nel primo tempo eravamo veramente inguardabili. Cioè, non abbiamo fatto un tiro in porta. No, forse uno. Infatti, il telespettatore però lui dice, io poi mi trovo con il mio mister del Milan. Però poi, certo, sapete quanto costa, o quanto costerebbe? Non, quanto costerebbe no. Quanti soldi di mancati introiti comporterebbe la mancata partecipazione alla Champions League per il Milan nel prosieguo della stagione? Sono 100 milioni di euro. Tra mancati incassi, tra premi partita dell'UEFA, 100 milioni di merchandising. Magari bonus, benefit degli sponsor che magari hanno quella clausolina lì che se vai agli ottavi di Champions ti danno 5 milioni in più, dico a caso, un milione in più. Quindi è importante perché poi quando tiri la Liga e fai il bilancio, quest'anno il bilancio nel Milan è inattivo. Quindi, se gli mancano 100 milioni, chiedetelo alla Juve che ha dovuto ricapitalizzare con 200 milioni in questi mesi perché l'anno scorso è andata in Europa League. Quanti di noi dicono a volte, vai, se arrivo a quel livello mi compro una maglietta, compro una maglietta a mia figlia. Sono tutti step, lo vediamo anche nel piccolo. Certo. Pronto? Se vincolo su Brenna Lotto. Ah, quello è un altro discorso. Pronto? Sì, buongiorno. Volevo rispondere solo al signore che domenica scorsa ha visto una partita del leader che continuava a passare al portiere. Sicuramente era tifoso juventino. Allora volevo rispondere a lui. Ma l'ha vista la partita Juventus-Fiorentina? E cosa mi dice di questa partita? No, ma purtroppo era tifoso dell'Inter e non gli è piaciuto. Ah beh, io comunque non l'ho vista. Per me è stata una grande partita. Ha giocato col cervello, finalmente. Perché l'anno scorso abbiamo perso un campionato col Milan, prendendo schiaffi in Milan, però perdendo per 2-1. Non abbiamo giocato col cervello in quella partita. Secondo me... È una doppia visione, grazie. Un saluto. Sì, sono le due facce della stessa medaglia. Perché alla fine... C'è metà che la pensano in un uomo e metà nella... Allora, quando io ho letto che Cappello ha scritto... No, ha fatto un'intervista l'altro giorno, ieri, sulla Gazzetta, dicendo che all'Inter manca coraggio. E la Juve è favorita in questo senso per il campionato, perché all'Inter manca coraggio. Io mi sono... Ho detto... Cioè dopo Sacchi adesso anche Cappello bisogna contraddire. E mi spiace perché sono due grandi allenatori. Ma Cappello poi ha vinto veramente dappertutto. Ovunque è andato, Cappello ha vinto. A differenza di Sacchi, che ha vinto solo al Milan. E ha vinto tanto. Ma che partite vede? Cioè la Juve è coraggiosa? Ma quando? Ma dove? Allora, prendo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego. Sono Mauro da Gavirate. Bentrovato. Sì, sono milanista. Prego. Volevo dire... Siccome quel signore lì di Piola ha mandato via a Maldini, deve andare via anche lui. Ma veloce deve andare via. Perché questo ha distrutto il Milan. Questo ha distrutto il Milan. Maldini stava facendo bene. Chissà perché l'hanno mandato via. Perché lì è come una mafia. No, no, no. Non usiamo questi termini, per favore. Non usiamo questi termini. Io mi dissocio immediatamente da quello che ha detto il signore. Anch'io. Mafia, no. Anch'io, assolutamente. Andiamo in pubblicità, ma ne parliamo. Si può essere d'accordo o disaccordo. Però non usiamo termini che sono... Chiaramente... La mafia è un'altra cosa. ...lontani da noi, ovviamente. Pubblicità, tra poco. Eccoci in studio. Non l'ho detto, grazie per l'attesa. Perché sapevo che mi avresti presa in giro. Perché ha aspettato lui. Abbiamo aspettato lui, Davide Re. Ben trovato. Ah, abbiamo trovato che era ancora nei dintorni. Stava parlando con i colleghi. Allora abbiamo detto, scusa, se sei qua e parliamo di calcio, così almeno bilanci l'interista. Eh, bilanci anche perché abbiamo l'ultima telefonata in cui, insomma, si parlava di Pioli e di Maldini. Tu che ne pensi a riguardo? Ma secondo me, cioè adesso cambiare un tecnico come... Cambiare un tecnico come Pioli, in questo momento ormai la... O la ribalta a lui, la situazione, oppure un cambio in corso in questo momento può essere ancora più deleterio. Magari forse più che i Braimonis potrebbero magari affiancarlo. Per esempio con Sacchi, ecco. Potrebbe essere un grande vecchio, fra virgolette. Potrebbe dargli qualche dritta giusta, visto che ultimamente è sempre abbastanza presente nel dibattito calcistico. Paolo, con Sacchi, tu che ne pensi? Cioè, la persona ovviamente merita tutta la stima e rispetto perché lui è andato lì, ha vinto al Milan. Ci sono giocatori che hanno fatto la storia grazie a lui. Dopodiché non so se... Lui aveva un problema, no? Dice che non riusciva... Quando faceva l'allenatore non riusciva a dormire di notte. Insomma, perché questa professione, questo lavoro, è un lavoro che ti assorbe 24 ore al giorno. Cioè, non è come fare il giocatore che vai all'allenamento, hai finito, torni a casa, massaggiatore, vabbè, il medico sociale. L'allenatore, sei full immersion. Cioè, sei allenatore anche quando dormi. Perché le pensi tutte, perché vuoi vincere, perché comunque lui... Diciamo che la viveva male questa professione, l'allenatore... E quindi ha deciso di abbandonare perché voleva tutelare la salute innanzitutto. Però sarebbe una figura incredibilmente di primissimo piano che andrebbe bene e potrebbe aiutare sicuramente il Milan, così come Cappello, così come altri... Però ecco, Sacchi, secondo me sarebbe... Non so, Davide, se lui vorrebbe... Cioè, accetterebbe di fare... Poi alla fine fa il parafulmine. Eh, questo è il rischio. Eh, lo so, però mi sembra che l'idea di dare una scossa a questo Milan prendendo Ibrahimovic, che non si capisce quale ruolo potrebbe avere... Certo. Il deus ex machina. Eh, cioè, se vuoi veramente dare una scossa devi prendere comunque una persona. Però non puoi allontanare Pioli, quindi... Senti, ma secondo te, ieri sera, ritornando un attimo a questa clamorosa rimonta dell'Inter, la scossa, la data veramente Inzaghi, cioè lui che è entrato e li ha svegliati? Secondo me, in parte. Secondo me si sottovaluta il gruppo che è stato costruito, che sono stati gli stessi giocatori, fra virgolette, i titolari, a scuotere quelli che erano in campo, che si sentono anche i loro titolari. E quindi c'è stato... Ovviamente anche Inzaghi ci ha messo del suo in maniera importante. Però quello che ci ha messo tanto Inzaghi è la costruzione di questo gruppo che ha superato anche delle fratture, come per esempio Lukaku. Non è un mistero che quando Lukaku per l'ennesima volta aveva cambiato idea è stato il gruppo a respingerlo e a dire ci prendiamo noi la responsabilità di tenere un certo tipo di livello. Questo è anche una dimostrazione di carattere non indifferente che ha portato ieri sera l'Inter a una clamorosa vittoria perché ha preso un palo all'ultimo minuto, barella, incredibile. Ancora lì che trema quel palo lì. Sì, certo. Poi rimane anche un po' il peccato di dire, Paolo, se sapevate fare tutto questo, tutto quello che è arrivato dopo, perché non l'avete fatto prima? È sempre un po' il discorso di questa pazza Inter che però da una parte ti stupisce e dall'altra ti rammarichi. Quello che ci siamo chiesti un po' tutti è quello che si è chiesto anche Bissec nel dopo partita, ha rilasciato delle dichiarazioni, e ha detto candidamente perché poi è giovane, poi sono sinceri, poi non hanno... Cioè perché devono addurre delle scuse e dire magari... Ha detto sinceramente, ce lo siamo chiesti anche noi perché non siamo riusciti a fare la partita del secondo tempo. Sicuramente però avevamo dentro di noi, e ognuno di noi l'aveva, ha detto Bissec, la volontà e la determinazione per far sì che questa partita non venisse persa. Cioè non volevamo perderla, nessuno di noi la voleva perdere, e questa voglia poi è emersa nel secondo tempo. A volte può succedere, ragazzi, a volte può succedere, può succedere nelle partite di campionato, può succedere nelle partite di Champions a questi livelli, può succedere nelle partite di Champions a livelli immensi come una finale. Ve lo ricordate tutti, il 3-0, 3-3 del Liverpool. Il Milan non è che è entrato in campo nel secondo tempo e voleva perdere la partita, la voleva vincere. È scattato qualcosa negli avversari, tu magari hai avuto un lieve calo psicologico e quelli lì ti hanno battuto, certo, perché poi hanno vinto loro. Voglio leggervi dei messaggi. Parto da Francesca, Davide. Chi deve temere di più per lo scudetto l'Inter? Il Napoli, la Juve o il Milan? Chiede Francesca. Ma io credo alla Juventus, per il semplice fatto che la partita di domenica, che è stata una partita, a mio avviso, non banale, è emersa in realtà la grande capacità della Juve di essere, fra virgolette, rapinatrice. Cioè non ha fatto la partita perché sapeva di non poter fare la partita, aspettava l'Inter per colpirla. Questo dà l'idea di comunque quanto sia lucido o allegri e il fatto di saper capitalizzare in ogni partita, anche le più banali, quei punti preziosi che possono fare la differenza e compensare magari anche una sconfitta negli scontri di reddito. Allora, leggo un altro... No, voglio sapere però, su questo messaggio di Francesca, anche il parere di Paolo, prima di passare agli altri messaggi. Chi deve temere di più per lo scudetto l'Inter, secondo te? Napoli, Juve o Milan? Allora, la Juve, la Juve sicuramente, sono d'accordo con quello che ha detto il mio amico Davide e poi il Milan se dovesse uscire completamente dalle competizioni europee. Cioè se dovesse uscire dalle competizioni europee il Milan secondo me può rientrare nella corsa del campionato perché con quegli 11 fissi intanto diminuisce le possibilità di infortuni perché giochi di meno. E in secondo luogo ricordatevi sempre il Milan delle prime 4-5 giornate del campionato che con quegli 11 titolari del Milan, la base squadra è buona, erano primi. E quindi io temo anche il Milan. E poi c'è un'altra cosa del Milan che è un po' una cosa cabalistica. Comunque il Milan anche in queste difficoltà gli gira sempre bene perché con, mi spiace dirlo, una pessima Champions League che sta disputando è ancora in corsa. Non è ancora fuori. Oltretutto ci vuole una congiuntura astrale incredibile. Quando ci sono tutta una serie di episodi che vai a Lecce, ti salvi all'ultimo minuto perché prendi un gol da 40 metri. Vai a Genova e segni in stile pallavolo e ti va bene. Tutta una serie di cose che poi alla fine, dopo tantissime giornate di campionato, su sommi tutti quei punti che sei riuscito in qualche modo a recuperare poi è dura. Quindi diciamo che mentre l'Inter è pazza il Milan ha una congiuntura astrale. Questo è un po' riassunto e non penso che piace mai. Ma la congiuntura ce l'ha anche l'Inter qualche volta. La fortuna a volte gira e la fortuna ce la devi anche cercare. Ieri parlavano sempre i rigorini e rigorini. Cioè rigorino ce l'hai se entri in area di rigore. E si è passato. Ieri, perdonami Davide, io non lo so. Io sono tifoso però ieri mi sento di dire che il rigore era netto. Il rigore è netto. Cioè gli è andato sopra con la scarpata e gliel'ha tirata. Sui social network hanno scritto di tutto. Io ho capito ma sui social non è che è una sentenza. No però è un sentimento. A volte, scusate, ha ragione Umberto Eco quando leggo certi social... Cioè, leggo certe cose che veramente è una... Il rigore era netto. No, è l'ignoranza grassa che cola dai social. In questo io sono molto... sono molto... molto selettivo. Va bene. Perché non è che per forza devi scrivere corbellerie. Corbellerie è andata a vedere che cosa significa sul dizionario. È un eufemismo per non dire altre cose molto più pesante e molto più volgare. Allora, io ho un po' di messaggi però mentre andiamo su internet a cercare corbellerie andiamo anche in pubblicità. Eccoci in studio. Allora, andiamo ancora a leggere qualche messaggio. Inzaghi è il più bravo allenatore sulla piazza. Cosa ne pensa Pirovano, Giorgio? No, perché non ha ancora vinto ha vinto poco ha vinto in campione nazionale coppe e supercoppe poteva vincere uno scudetto due anni fa e per scelte sbagliate per situazioni che si sono create all'interno del spogliatoio lo ha perso lo ha perso anche per un infortunio di Radu a Bologna però è inutile rimangare lo sapete tutti però può diventare un ottimo tecnico perché Inzaghi è intelligente ha la capacità di migliorarsi è uno che studia è uno che va a vedere quello che fanno gli altri un limite che trovo a Inzaghi se proprio devo essere cattivo e così severo è quello di non avere mai l'elasticità mentale che però gli arriverà e gli deve arrivare per forza se vuole fare a stare l'asticella del modulo cioè lui è rimasto col 3-5-2 quando invece a volte anche durante la partita per mettere in difficoltà l'avversario devi prevedere uno davanti alla difesa che vada a rompere le scatole alla difesa avversaria qualche dispositivo per 3-4-1 dico 4-3-1-2 fate voi però qualche variazione al tema principale che è il 3-5-2 ci vorrebbe ogni tanto sei d'accordo Davide? allora sì secondo me Inzaghi non è l'allenatore più bravo ma sicuramente è l'allenatore più talentuoso bravo e sicuramente nella sua fase di miglioramento deve iniziare anche ad avere un po' queste punte di genialità ecco secondo me una che ha a disposizione che però purtroppo si era fatto male e forse per questo non l'ha mai usato a volte usare le 3 punte magari in partite in corso e su questo potrebbe sfruttare secondo me un grandissimo giocatore che è Marco Arnautovic che ha una fisicità una visione di gioco non indifferente e in un modulo di 3 punti magari gli ultimi 10 minuti finali potrebbe concretizzare molto il volume di gioco che l'Inter fa e molto spesso non concretizza come dovrebbe Allora a proposito di allenatori a proposito di infortuni io dico così Pioli non sarebbe a rischio ma occhio alla partita di sabato ma perché mi sembra di averla sentita 15 volte l'anno questa frase basta dice Lucchino Io non so se a rischio cioè lo sono a tutti a rischio se sbagliassero 3, 4, 5 partite di seguito a rischio anche Allegri a rischio tutti sono a rischio dopodiché si compattano si parlano i dirigenti dicono di cambiare registro magari lui ci prova e risale la china l'anno scorso Inzaghi tra gennaio e marzo ragazzi se non andava avanti in Champions non dico che sarebbe saltato l'anno scorso sarebbe saltato a fine anno poi ha fatto quella stagione e nessuno ha avuto giustamente e per fortuna il coraggio di mandarlo via perché può capitare un'annata no Pioli Pioli non è il primo anno che si infortunano così tanti giocatori con la gestione Pioli quindi se lui non è così elastico mentalmente o così consapevole di avere magari sbagliato e qualcuno glielo deve far capire perché sono tutti infortuni muscolari e ripeto 26 infortuni muscolari di cui scusate 26 infortuni di cui 17 muscolari è una media che secondo me non esiste ma non a livello di serie A italiana a livello di tutti i campionati dell'intera Europa per non dire anche del Sud America allora vi leggo vi leggo dei messaggi allora ce n'è uno per il Milan e uno per l'Inter da dove partiamo dal Milan che così almeno accontentiamo tutti ecco perché non mettono Ibra sulla panchina del Milan perché non ha il patentino perché non ha il patentino e perché deve fare il corso di Coverciano per diventare allenatore però sarebbe Davide tu mi insegni che nel caso ci fosse questa grande decisione Abate lo porterebbero dalla primavera alla prima squadra i due sono molto amici ovviamente Abate coprirebbe dal punto di vista così formale regolamentare Ibra il quale poi invece è quello che decide la formazione e fa gli allenamenti o sbaglio allora potrebbe essere una soluzione e risponde però al primo tema se il Milan cambia l'allenatore che non è nel DNA della proprietà come non è nella DNA della proprietà dell'Inter perché bisogna ragionare su società che ragionano in una maniera completamente diversa e non come i presidenti padrone fra virgolette italiani italiani che scatta l'esonero di tre minuti i conti li fanno alla fine quella potrebbe essere una soluzione a basso costo e l'ultima cosa invece sull'infortunio del Milan è che non è solo colpa di pioli dei preparatori è il fatto che il Milan non volendo prendere giocatori a parametro zero perché c'è tanto ingaggio da pagare vanno a prendere dei giocatori che molto spesso la valutazione è al ribasso perché hanno un profilo diciamo fisico di non perfetta integrità perché se tu vai a prendere Loftus-Cic che è un giocatore fortissimo ma non è che al Chelsea non lo sapevano e dicono te lo regaliamo è perché era più in infermeria che in campo quindi il fatto che poi si infortuni spesso uno come Loftus-Cic purtroppo te lo devi aspettare allora Luke scrive di una cosa sono sicuro io sto con Bissek gran secondo tempo il ragazzo può crescere tanto arrivare dal campionato danese giocare con l'Inter non è mai facile forza e poi secondo me alla fine del primo tempo di Benfica Inter Renzaghi ha fatto vedere lo schermo e ha messo un'immagine del Milan vi paragonano a loro il resto è storia mamma mia ah gli ha fatto vedere è feroce questo qua è proprio tifo frenato ma a livelli inerrabili e poi Francesca dopo ieri sera l'impressione è sempre più che questa squadra sia consapevole della sua forza e possa fare il bello e il cattivo tempo quanto vuole ma soprattutto che non ci stia mai a perdere e ha grandi attributi e questo spirito da Inter mi piace davvero parecchio e poi a me invece fanno arrabbiare quando pareggiano in campo come nel primo tempo sia ben chiaro insomma sono tanti sono tanti messaggi e in particolare su questa clamorosa rimonta che è sempre un po' il discorso di pazza Inter sì ma se tu hai le potenzialità un po' come come a scuola no Paolo quando ti dicono le potenzialità ma non ti apri che quando ti stanno per bocciare allora ti svegli ti dicono le potenzialità le ha però però è quel però che pesa ma secondo me la partita di ieri sarei stata anche viziata da alcuni fattori iniziali che devono essere messi pioveva entrano una serie di giocatori che non hanno il passo del titolare quindi hai bisogno prendi subito due gol su due errori clamorosi quindi vai in bambola individuali perché uno si è perso quello che ha fatto il ponte col colpo di testa poi Aslani ha fatto un errore che ha vanificato tutti i miglioramenti degli ultimi sei mesi vai sotto due a zero sei in bambola rischi di andare di prendere l'imbarcata una squadra molto motivata al Benfica che è il primo in campionato ma in Champions sta facendo disastri cioè nel senso qualche giustificazione ce l'hanno avuto stati bravi a reagire telefonata pronto buongiorno buon pomeriggio sono Davide da Milano buon pomeriggio sì vi stavo ascoltando e sinceramente volevo chiedervi questo non so se di condividere questa impressione quando ho visto la formazione che sarebbe scesa in campo contro Benfica ieri sera ho detto ho pensato chissà che cosa ha in mente in realtà a parte il turnover probabilmente non avrebbe in mente nient'altro di conseguenza ecco io sinceramente dopo il primo tempo sono rimasto abbastanza delughe perché capisco la necessità di fare il turnover ma arrivare a giocare una partita che comunque parliamo di una partita di Champions e con il Benfica e arrivare con questa formazione ecco mi auguro che questa questa cosa all'allenatore all'intaghi gli rimanga bene in prezza perché il turnover è vero è giusto farlo ma va fatto facendo ruotare le persone facendo giocare con gli altri con i titolari come dire è un qualcosa che va molto cioè va calibrato va meditato chiaro chiarissimo grazie io penso che se domenica anziché incontrare Napoli avesse incontrato tirate via tutte le squadre che stanno nel settore di sinistra della classifica e prendete una delle squadre che sta nella destra della classifica sicuramente non avrebbe fatto questo turnover questa è la mia sensazione è il mio inzaghi non è stupido sa benissimo che domenica passi in denne batti il Milan batti la Roma batti la Fiorentina passi in denne dalla Juve cerchi di far bene contro il Napoli il girone è andato è andato c'è chi rimane la Lazio mi sembra quindi ancora una volta comunque è Inzaghi che fa dei ragionamenti sì ma lui non voleva cioè quello che voleva fare era il turnover altre idee strane non ne aveva Davide o no anche secondo me voleva fare una partita dignitosa fare il turnover che tanto anche con la Real Sociedad la giochi a San Siro e scrivono non andiamo soltanto in finale la vinciamo non mi smiancio mai ma sarà così state calmi per favore state calmi manca ancora tanto a me piace questa entusiasmo io sono io sono quello della bottiglia mezza piena se non della bottiglia mezza vuota però calma calma come direbbe Alè e poi bella differenza Giacomo scrive rispetto alla prima parte della stagione scorsa sì perché l'anno scorso è una mia impressione non so se condivisa dal nostro amico da vedere di avvenire che hanno sbagliato qualcosa di preparazione hanno sbagliato all'inizio anche se secondo me hanno sbagliato di preparazione e secondo me avevano c'era una concentrazione completamente diversa invece quest'anno lo vedi proprio con la partita con la Juve cioè prima il telespettatore ha detto una cosa giustamente speriamo che Inzaghi impare ecco con la partita della Juve c'è già che l'Inzaghi non fa l'errore due volte certo perché rispetto all'anno scorso è stata una lettura di come avrebbe giocato Allegri eccezionale bravo ecco dopo aver preso tre gol in 30 minuti non si sono né scomposti né disuniti non ho visto sguardi carichi di panico questo è essere forti guarda in quei casi sono due o sei forte o sei inconsciente tu dici una delle due sicuramente però va bene così perché anche uno che cioè vabbè l'incoscienza no perché cioè dividere l'incoscienza dal coraggio ecco il coraggio è quando sei consapevole delle tue possibilità e vai avanti l'incoscienza è uno che va alla Carlona ecco e noi dobbiamo andare alla pubblicità invece e quindi siamo inconscientemente coscienti che dobbiamo che dobbiamo salutarci che dobbiamo salutare Davide Re che abbiamo praticamente tenuto qua però non ci devi denunciare per sequestro di persone ok grazie Paolo Pirovano grazie a te e a voi ecco ti saluto poi vi saluto privatamente quelli che mi hanno scritto di salutare uno o l'altro così non si offende nessuno grazie per averci seguito noi ci vediamo con Metropolis domani alle 12.30 un buon proseguimento su Telenova ciao ciao